Grazie a tutti ragazzi, qui è Master Game e oggi siamo tornati su MrXMod che penso che in questa puntata la finirò. Allora, eravamo rimasti perché ha seguito l'ultimo episodio a Samara che eravamo morti e eravamo sfondati vicino a lei. Allora, lei mi chiama una forza incredibile, ma non sono solo per affrontarla, con me e mia compagnia c'è Black Ops Revolution 59, ciao a tutti ragazzi, ecco, cioè lei come gli alieni esattamente bisogna uccidare praticamente solo con poco. In modo stranissimo, che è una forza, un po' tendì, non dice manco i parole. Ma l'ha messa Zeb a posto. Ma Zeb è un numero uno. Zeb è uno dei miei stili, veramente. Yeh, ma la c'è da fanno più cose che fa a casa te. Andiamo, non c'è affronta. Non c'è mai che prendo foo, ma mi è crollato un mito, mi è f mantento A-ha what LGF? Che foo? No, è male a favore. Eh, niente! c'è vero moda stavolta la parte della parola con la parola testa per la carta bottiglia di popolo c lecce ho visto ador finira aspettiamo che il nostro omoio ieri samara manzovo buttata per me la fuoco a casa di scappato io ho visto un numero spettato la parola aspetta ho capito cosa fare ah guarda dove era guarda dove era guarda dove era ma perchè si spaventa quando buttò le moto ahahah 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 eh tieni brucia brucia come il fuoco ahahah 400moto lo fa ma fa terrere che ammazze e ah la mia amolizia è in giù solo questo è un messo poi che la mande ahahah 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 ma ancora? che non è che sarà chi si è peggio l'accesso ahahah ahahah stiamo quasi aspettando che muoia tanto il gioco ho fatto solo per aspettare apriamo la mistrix la moto 2 penso che è meglio no la mistrix 2 ci faccio sicuramente una serie perchè è troppo bello uh crash ahahah l'uomo ancora non muore vabbè ragazzi comunque avete visto va che lei può morire solo con fuoco non mi sono fatto capire ahahah ma che finisle ma è nata da qualche ora che è finito guarda che è fuori la conclusione ahahah vabbè ragazzera faremo un gillet il face facciamo due mod in uno perchè va occupano va vengono poi dottomundate per una mod in uno infatti vuole in più ehmah non è vero spazio la macchia spazio la costruzione io non so come gli stiari, allora con le macchie vabbè ragazze dunque sarà sicuramente morta ci vediamo dalle dfs bene siamo ritornati allora ragazze siamo arrivati dopo tre anni all'interface all'ora di notte mi eseriggiamo molto grosso non ci vediamo a domani l'uomo alista qualcosa io ho fatto adoro di questo posto e non c'è un'intera signor non usavo l'unico un po' aria del testo a comprare di sommare adeguati primari il pubblico eredica è mortale c'è chi fa fare mod e non muore vabbè ora velocizzeremo la parte del video in cui se non rendere il video troppo lungo ti non fa fa annoiare esatto a dopo a dopo a arrivato finalmente dopo tanto tempo voi avete visto tutto velocizzato ma allora allora che ti mando oh ma ecco oh 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 se no con l'ingettivato non ho fatto questo è la modula ma dove sta andando vieni vieni che ti do un regalino vieni qual è eh vieni 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 ho ucciso e a tutti ragazzi che non ha pensato è vabbè abbiamo finito vabbè va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale e quello di black ops lo lascerò nella descrizione grazie e alla prossima alla prossima, ciao